27 dicembre 1947. Il capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, il presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini, e il guardasigilli, Giuseppe Grassi, firmano la Carta Costituzionale, legge fondamentale dello Stato italiano. Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, lo stesso giorno della firma viene pubblicata nell'edizione speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la numero 298. La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948. Ho bisogno di una magia, ho bisogno di una magia. Anche quest'anno è già Natale!